Ho scelto di essere quello che sono perché ho sempre seguito le mie passioni, il turismo e la tecnologia. La mia parola preferita è pianificare, perché amo pianificare le cose, a volte un po' troppo, e in particolare amo pianificare i viaggi. La prima volta che ho percepito quale sarebbe stata la mia strada è stato al terzo anno di Unife durante il corso di marketing. Per superare la più grande barriera che ho incontrato, ovvero entrare nel settore del mio lavoro dei sogni, ho lasciato tutto. Sono andato a Dublino dove stava per esplodere il settore tecnologico e è stato fondamentale per poi tornare indietro in Italia e trovare il lavoro dei miei sogni a casa. Oggi sono una market manager per una grande e importante piattaforma di prenotazione viaggi e di prenotazione hotel, auto e voli aerei. La sfida più grande che dovrò superare per raggiungere il mio obiettivo è non pensare di essere arrivato e trovare sempre nuovi stimoli per migliorarmi. Unife è stata importante quando io e un altro gruppo di studenti abbiamo aperto un comitato locale di ISEC, la più grande associazione di studenti neallavorati del mondo, una piattaforma per insegnare ai ragazzi a lavorare in team e i principi della leadership. Unife è stata importante perché ci ha dato a disposizione gli spazi, il supporto dei docenti e dell'amministrativo per far conoscere a tutti gli studenti questa nuova realtà. Ho sentito di aver raggiunto il mio primo traguardo importante quando sono stato selezionato per una borsa Erasmus, perché sapevo che sarebbe stata un'esperienza che mi avrebbe cambiato la vita. Consiglio a tutti di fare questa esperienza. La persona che ho conosciuto a Ferrara che frequento con più piacere è la mia ragazza, lei bolognese di origine calabresi, per mia fortuna anche lei decise di studiare all'Unifè, e quindi Galeotto fu Unifè. L'angolo di Ferrara che amo di più è la campagna dentro la città perché è un posto unico. Quale città ha un angolo di campagna all'interno delle mura cittadine? Penso che iscriversi a Economia e Management a Unifè sia importante oggi perché i mercati, le aziende, le istituzioni oggi sono velocissime, ipercompetitive. Unifè ti dà una solida visione di insieme, le chiavi di lettura per leggere questo nuovo mondo ed entrare consapevolmente nel mondo del lavoro.